Cari Gitarnauti, ciao e bentornati a questo appuntamento con vele suono, lo spazio che zitto zitto 4 4 sta diventando sempre più popolare a giudicare della quantità di domande che mi lasciate. Oggi abbiamo un cantiere di rispondere nella seconda parte del video tipo a una settantina di domande, quindi mettetevi comode, cercherò di essere da un lato veloce e dall'altro lato esaustivo nelle risposte. Ma prima vediamo le classiche questioni iniziali, quindi vi chiedo come sempre di connettervi con noi su WhatsApp, dovreste vedere il numero in sovraimpressione, quindi ci mandate un messaggio con testo chitarra e così attivate gli aggiornamenti che vi arriveranno direttamente sul vostro telefono. Gli aggiornamenti li mandiamo il lunedì sicuramente, talvolta il giovedì e sono un corrispondente della newsletter, quindi serve semplicemente per ricevere appunto le lezioni che pubblichiamo durante la settimana. Poi dopo un'altra cosa, su Facebook abbiamo il gruppo dei Gitarnauti, quindi il gruppo ufficiale di Facebook dove discutere di tutto quello che vi viene in mente riguardo la chitarra e fare a me, fare alla community tutte le ulteriori domande a cui non rispondiamo ad esempio qui. Dopodiché vi invito ad iscrivervi al nostro sito, quindi ricevere così la newsletter anche lì, quindi lì arriva la newsletter con tutti gli allegati, tutti i vari link e iscriversi al sito serve anche perché si può accedere alla grande quantità di spartiti e materiali didattici gratuiti che ci sono a disposizione sul sito, quindi come sempre torno a ribadire non vendiamo pentole, non arrivano in ciclopedia, la registrazione è assolutamente semplicissima e i materiali sono gratuiti. Poi alcune persone decidono di comprare i nostri corsi, ma quello è un altro discorso. Ecco, detto tutto questo parliamo delle anteprime delle nuove lezioni, quindi di cosa bolle in pentola a livello di lezioni qua su YouTube e sul sito. Allora, lunedì dovrebbe uscire Messaging About All Day Police, quindi andiamo a colmare un'ennesima lacuna di una band che non avevamo fino adesso trattato e nel video infatti dico, se vi vengono in mente altre band di cui siamo colpevoli, cioè di non averle trattate o altri artisti, scrivetemelo nei commenti di modo che così cerchiamo di colmare, di tappare queste lacune. Ok, quindi lunedì i police, poi dovrebbe arrivare la settimana successiva una lezione su Imagine di John Lennon ed è un video in collaborazione con Tino Carugati di cui sono particolarmente felice perché, un po' perché sono contento di aver lavorato con lui, è un pianista Tino, un pianista eccezionale, ha un canale YouTube fantastico che dovete assolutamente scoprire se siete appassionati di pianoforte. In più apre anche una stagione per me di lezioni spero gemelle con altri strumenti, quindi in questa lezione io insegnerò la parte di pianoforte, Tino ha già pubblicato il suo video riguardo al, scusate io insegno la parte di chitarra, sto andando in confusione, Tino ha già pubblicato il suo video in cui spiega la parte di pianoforte, paralleli, due video gemelli sia mesi direi, ok, che si completano a vicenda, quindi andate a scoprire il canale di Tino e spero appunto in futuro di riuscire a preparare altre lezioni in collaborazione con altri YouTubers che si completino guardando la prospettiva da due strumenti diversi. Poi arriverà sicuramente il tutorial, lo stiamo montando, lo stiamo editando, della solo di Nokia Never's Door, di cui avete visto un'anteprima nelle settimane scorse su YouTube, mi avete ricoperto di complimenti, grazie per l'esecuzione, in realtà l'ho fatto insomma come mi viene, però in effetti era abbastanza simile alla versione originale. Poi come da vostre richieste arriverà un tutorial su El Diablo di Litfiba, che non è un pezzo difficilissimo da suonare, ma il quale sono abbastanza legato per motivi generazionali, perché è il primo CD che acquistai, se non lo ricordo male, quindi ci tenevo, ed è una bella parte rock da suonare dall'inizio alla fine, quindi un pezzo sicuramente interessante, e poi Europa di Sant'Ana, ho già fatto le riprese video, anche quello andrà montato, e non finisce qui perché ci sono in realtà tutta un'altra serie di tutorial in ballo, o di cui ho già fatto le riprese, o per esempio domani mattina dovrò registrare un altro video, quindi sto sempre lavorando su questo, c'è anche una fase di preparazione, perché è chiaro che ci sono brani che ho sempre suonato, che conosco già, e quindi realizzo la lezione direttamente, ma per altri brani devo anche preparare le canzoni stesse, se non l'ho mai suonata devo tirarmi giù le parti, impararli, e anche in maniera piuttosto diciamo così accurata, perché so benissimo, man mano che il numero di scritti aumenta, sono sempre più sotto i riflettori, quindi appena faccio un errore, una cosa un po' imprecisa, arrivano subito a dirmi no, è sbagliato, il bending era così, quindi devo cercare di essere più così, più preciso possibile, questa cosa richiede una preparazione, ma andremo avanti anche, riprenderemo anche i video in stile vlog, quindi quelli che avevamo fatto tipo i dieci migliori chitarristi, o sette aneddoti sui chitarristi, quindi li riprendiamo sicuramente, uno l'ho già registrato, ed è il video sui miei dieci chitarristi preferiti, quindi questa volta, me lo avete chiesto voi, qualcuno me l'ha chiesto, questa volta non un video con delle pretese di oggettività, ma un video di mio gusto, quindi vi dirò quali sono i dieci chitarristi che mi hanno influenzato di più, e il perché, e in più ci saranno anche dei dischi consigliati, quindi per ciascuno di questi dieci chitarristi ci sarà un po' il disco simbolo che vi consiglio di andarvi a ascoltare, poi ci sarà anche un video sempre in stile vlog su i miei canali di chitarra preferiti su youtube, quindi oltre al mio canale vi consiglierò alcuni canali, 5, 6, 7, adesso non mi ricordo, internazionali e italiani a cui dedicarvi da scoprire se ancora non li conoscete, ok? Ecco, e poi sicuramente abbiamo ripreso, come avete visto con Marco Sfogli, abbiamo ripreso anche il filone delle interviste su youtube ed è una cosa molto interessante perché andiamo a scoprire alcuni grandi musicisti e chitarristi, infatti ho intervistato nei giorni scorsi, stiamo lavorando sulla parte dei sottotitoli perché hanno le interviste in inglese, abbiamo intervistato un grandissimo turnista e session che si chiama Tim Pierce, non so chi di voi lo conosce, ha anche un canale spaziale veramente su youtube dedicato alla chitarra che vi invito a scoprire, quindi questa è un'intervista di cui sono particolarmente felice perché Tim Pierce ha suonato con tutti, ha suonato con Michael Jackson, con Madonna, con Bruce Priest, con Patti Smith, con Santana, con Eric Clapton, ha fatto il session per tutti, è veramente un turnista straordinario, quindi l'abbiamo intervistato, abbiamo parlato di un sacco di cosette, credo che nel giro di due o tre giorni pubblicheremo questa intervista appena abbiamo finito appunto con la parte di sottotitoli perché l'intervista è in inglese. Ecco, parlando di inglese vorrei prendermi 30 secondi per parlare di una questione un po' off topic, cioè fuori tema, perché come qualcuno di voi sa l'inglese è un'altra mia grande passione assieme alla chitarra e io ho potuto realizzare queste interviste in inglese anche grazie ad una persona, ora vi spiego perché. Perché ho parlato per quest'ultimo anno, ho fatto pratica, quindi mi sono esercitato a fare conversazione via Skype con una persona che mi ha aiutato proprio inglese, di nazionalità inglese, che mi ha aiutato proprio a fare questo. Io volevo innanzitutto ringraziare questa persona che si chiama Sid, che è la mia insegnante di inglese, e poi vi volevo invitare a scoprire il suo lavoro sul sito italki, quindi italki è un sito dove si fa appunto conversazione in inglese, dove si può parlare diciamo gratuitamente con dei madrelingua facendo degli scambi linguistici, oppure pagare degli insegnanti professionisti per fare conversazione in inglese, quindi se volete migliorare il vostro inglese io vi invito caldamente a scoprire il lavoro di Sid, quindi il suo profilo su italki, vi lascio il link nella descrizione del video qui sotto, quindi ci cliccate sopra e vedrete il suo profilo dove c'è anche un video di presentazione e vi invito a contattarla se volete appunto migliorarvi sull'inglese, sia che siate a un livello base, che siate invece ad un livello un pochino più avanzato, è bravissima, è la migliore insegnante su italki e per me è anche una persona in questo momento importante perché credo sia la persona con cui ho parlato di più nell'ultimo anno, quindi grazie Sid, ho chiuso la mia parentesi dedicata all'inglese che era una parentesi in effetti fuori tema. Detto tutto questo credo che si possa passare alla parte dedicata invece alle risposte alle vostre domande, quindi come sempre seguiamo le categorie, quindi partiamo dalle richieste di tutorial che sono tantissime, quindi Tommaso Boggio mi chiede potresti fare una lezione sullo sweep picking e anche Mr. Dave mi chiede la stessa cosa, cosa ne pensi di realizzare un tutorial sulla tecnica dello sweep picking e anche Cesare Francesco Ligi parzialmente mi chiede fai un tutorial sulle varie tecniche del metal tra cui anche lo sweep picking e allora sto lavorando su questo video sullo sweep picking perché sto raccogliendo degli esercizi fondamentalmente, quindi come vi ho detto ci sono altre lezioni in ballo, alcune le giro direttamente sullo sweep picking, sto facendo una raccolta di credo una decina di esercizi che vi voglio proporre, quindi poi li inserirò in un video dedicato a questo, quindi la risposta è sì, farò una lezione dedicata a questo. Sean Alexei Donzelli mi chiede, riuscirai a fare un tutorial sulla parte solista di Nuendo dei Queen? Allora non so se intendi la parte quella elettrica o la parte quella classica, sulla parte classica mi piacerebbe molto realizzarla, tieni conto che è una parte molto difficile per me perché è suonata con tecnica flamenco, io come è noto non sono un chitarrista flamenco, la so fare ma è difficile per me raggiungere quella velocità, quindi la dovrò praticare, dovrò esercitarla ancora un pochino prima di realizzare la lezione e teniamo conto anche che non è stata realizzata da Brian May ma dovrebbe essere stata realizzata dal chitarrista degli Yes di cui adesso mi sfugge il nome, proprio perché anche un chitarrista bravissimo come Brian May non aveva tra le sue corde diciamo questo tipo di playing, quindi sì credo che ci lavorerò ancora un pochino per esercitarmi e poi realizzerò appena possibile una lezione. Alberto Villa mi chiede, mi piacerebbe che facesse un tutorial avanzato su come applicare le scale modali agli accordi, grazie, ma abbiamo già parlato un pochino di scale modali, ci torneremo sicuramente, fare un tutorial diciamo su tutte le scale modali contemporaneamente non ha molto senso, credo che abbia più senso trattarle una alla volta perché si muovono su territori armonici completamente diversi, quindi bisogna contestualizzare il territorio armonico e poi dopo eventualmente spiegare come utilizzare quella scala sopra. King Fosu mi chiede, grazie per il tuo lavoro, tratterai mai l'argomento del math rock? Allora io devo fare una missione di ignoranza, io sono andato a cercarlo, a googlarlo come si suol dire perché io non sapevo che cos'è il math rock, ora ho letto qualcosa ma non sono abbastanza esperto per trattare questo argomento, quindi io quando mi si chiede qualcosa che rientra tra le mie conoscenze lo faccio ben volentieri, quando si esula da quello non posso fare che ammettere anche i miei limiti, quindi forse è meglio se c'è qualche canale un pochino più settoriale, più specifico in fatto di quello, chiederlo a loro, io purtroppo non ho abbastanza conoscenze sull'argomento. Lemon Fritz mi chiede, ciao Claudio potresti fare un video, una serie di video dove spieghi qualche rudimento di liuteria come regolazione del ponte tremolo ottava e trastroda, ecco. Anche qui un pochino come sopra, io ho una conoscenza da chitarrista, quindi sono sicuramente in grado di farmi il setup delle mie chitarre, ma se entriamo nel discorso liuteria, allora ecco che esula un pochino delle mie competenze perché non sono un liutaio. Quando ho bisogno di un liutaio mi rivolgo al liutaio, quindi per rispondere alla domanda arriveranno magari altri video in fatto di strumentazione, piccoli setup e cose di questo tipo, ma non di liuteria in senso stretto. Emanuele Corridori, avremo in futuro il piacere di un tutorial su From the Beginning degli Emerson Lake and Palmer? Non la conosco, me l'ascolto sicuramente, sono una band prog, sono forse la band prog che conosco meno e andrò a cercare di colmare questa lacuna. Anderà Ciotoli, un tutorial riguardo Ozio e Black Sabbath? Sì sicuramente, anzi sto lavorando per preparare un tutorial di Ozio e Osborn, quindi non temete ancora un po' di pazienza, vedete quanti video ho già citato, quindi stiamo parlando di settimane e settimane di lavoro e settimane e settimane di programmazione, quindi abbiate anche un pochino di pazienza, comunque la risposta è sì. Raffaele Milella, ciao Claudio, cosa ne pensi di One of These Days de Pink Floyd? si potrebbe fare un tutorial, ma è un pezzo molto psichedelico, molto interessante, ci potrei pensare, diciamo che non è tra le prime canzoni dei Pink che mi vengono in mente per farci un tutorial, però è sicuramente una proposta interessante. Gabriele Salucci mi chiede, potresti fare qualche altro tutorial sui cream? Assolutamente sì, qualche cosa arriverà, magari non proprio tra le priorità assolute, anche perché abbiamo fatto qualcosa di recente, come tu giustamente Gabriele hai sottolineato. Fran Canella mi chiede, un tutorial su Electric Gypsy di Andy Timmons, allora non sono un grandissimo fan dei chitarristi che lavorano su dischi strumentali, canzoni strumentali, quindi come sapete non sono un grandissimo fan di, nonostante gli stimi, moltissimo di Satriani o Steve Vai, Electric Gypsy è un pezzo però che mi piace molto di Andy Timmons, quindi in effetti lo potremmo trattare e lui chiaramente è bravissimo. Andrea Spada, aspetto da tantissimo il tutorial di Tannello Vlot, ti prego farlo al più presto. Lo farò, non è in questo momento tra la lista le mie priorità perché cerco anche di andare a rotazione sulle tipologie di video, quindi ci sono già in cantiere diversi assoli, quello di Nocchio e Novesdor, quello di Santana e anche qualcos'altro che adesso non mi viene in mente, quindi la parte solista è già abbastanza coperta per un po', poi devo fare dei tutorial di chitarra acustica, di tutorial di chitarra elettrica, ritmica, di tutorial di teoria, quindi insomma devo cercare di far ruotare le tipologie di video, le parti e le tipologie di video. Andrea Spada, sì questo l'abbiamo già letto, Planet Room, realizzerei mai un tutorial sulla colonna sonora di Harry Potter? Non ci ho mai pensato, ci potrei pensare. Dalma 71, vorrei proporre come futuri tutorial due canzoni, Il Diablo di Te di Vasco e Il Diablo e Il Diablo ne abbiamo già parlato, ridere di te potrebbe essere un'idea, abbiamo di recente fatto Dormi Dormi, magari torneremo su quella fase, anni 80 di Vasco Rossi. Poi Pasquale Manganiello, ti seguo ormai da molto tempo, mi chiedo se farai mai Lover Your Soul, Lover You Should Come Over di Jeff Buckley, ma è un, allora io amo Jeff Buckley, mi piace tantissimo, il suo disco Grace me lo sono mangiato, mi chiedo però quanti dei miei followers interesserebbe un tutorial del genere, purtroppo devo anche ragionare un po' in questi termini, man mano che aumentano i miei followers devo cercare di accontentarli e non so quanti apprezzerebbero, quindi ditemelo voi se pensate che sia una cosa interessante, ma temo che sia una cosa un pochino troppo settoriale. Stefania mi chiede invece qualcosa dei Perjam e qui è già qualcosa di, diciamo, di più plausibile, nel senso che Perjam sono attualmente ancora molto popolari, io sono un grande fan del disco Tende Perjam, è un disco che ha fatto parte un pochino della mia crescita musicale e quindi penso che qualcosa farò e mi concentrerò magari sulla canzone più banale, nel senso banale come scelta, che è Alive, che è un pezzo comunque fantastico. Mattia Notarangelo mi chiede, conosci i The Cult? Ma certo che sì, farai mai un tutorial su di loro? Ma solito discorso, magari mi concentrerai su Rain, che è il loro pezzo più famoso, comunque mi piacciono un sacco, Ian Asbury ha una voce incredibile, quindi può essere che in futuro mi ci dedichi, ma ancora non credo che nei prossimi due mesi arriverà un tutorial su di loro. Giorgio Solfietti, un tutorial di Sangue Impazzito dei Timoria. Allora qui si va su una cosa che invece però ha segnato un pochino la mia giovinezza, perché io adoravo i Timoria, Sangue Impazzito è una canzone fantastica, renga, voce al top su quel brano, e l'ho amata e l'amo tantissimo, quindi io sono certo che prima o poi farò un tutorial su quel bellissimo arpeggio di Omar Pedrini e sulla canzone. Sì, lo farò. Paolo Lacommare, allora, mi chiede sostanzialmente perché non ho ancora trattato While Magrita Gentle Whips da Beatlesiano, ecco, nella fattispecie l'assolo di chitarra. Ecco, io pensavo domani mattina proprio di realizzare un tutorial non tanto sull'assolo di Clapton, che comunque è bellissimo e magari lo vedremo in futuro, ma sull'analisi armonica del brano, perché è un brano che ho sempre trovato interessante, quindi domani realizzerò le riprese, quindi tenete conto che quando dico realizzerò intendo dire le riprese lì nella mia zona dedicata ai video, poi dopo c'è sempre la fase di montaggio, la programmazione, la fase di upload, la promozione, quindi insomma da quando decido di realizzare un video, quando poi il video esce, passa un po' di tempo. Io invidio moltissimo quegli youtubers che dicono, ah sì, ok, oggi faccio un video e oggi stesso è già pubblicato, non so come fanno. Per il mio modo di lavorare, che prevede un certo tipo di situazione audio-video, questo non è possibile. Oresta Scaramuzza mi dice, cosa ne pensi di un tutorial di A.U. di Pink Floyd, che è un brano epico, è un brano fantastico, quindi prima o poi lo farò non so quando. Absolutely Daisy mi chiede, faresti mai un tutorial sullo stile di Stevie Ray Bogan? Allora, è una di quelle lacune che nel senso non ho ancora trattato e questa è una cosa molto molto negativa. C'è un episodio che credo di avervi già citato, cioè avevo già realizzato un tutorial di Pride and Joy, poi dopo c'è stato un problema sul file audio che era rovinato, da lì mi sono anche un pochino innervosito e non ho più, adesso ho ritrovato il tempo e la lucidità per rifarlo. Comunque lo dovrò sicuramente rifare e lì parleremo dello stile di Stevie. Players Insiders mi dice, potresti fare un tutorial sulla melodia di Sex Bomb di Tom Jones? È una richiesta che capisco un po' poco, nel senso che non vedo quale sia, diciamo, l'inerenza chitarristica su questa domanda, cioè non saprei che tipo di tutorial realizzare su quale tipo di parte. Comunque, ne prendo atto, ci ragiono, mettiamola così. Gaetano Arena mi chiede, potresti fare il tutorial di The Rain Song delle Zeppelins? Invece questo è un tutorial che realizzerò al 100%, sicuramente non so quando, ma lo farò perché è un brano che io adoro alla follia. E l'avevo anche suonato in qualche video, mi sembra, qualche tempo fa, adesso non mi ricordo più, si è perso nei meandri di YouTube. Pietro Natale, mi piacerebbe molto se facessi un tutorial sulla storia di Is There Anybody Out There? The Pink Floyd, Live on the Wall? Ma sì, siamo sempre lì, aggiungiamo alla lista, come vedete, cioè man mano che ragazzi facciamo richieste, man mano che anche a me vengono altre idee, si strutturano sempre di più, ho montagne di video da fare. Ah, c'è anche lui, prima o poi tornerò a fare anche qualche video dedicato a lui. Mi saluti, ti saluto Pietro Volentieri, ciao. Poi, passiamo ad un'altra categoria di domande, domande sui musicisti. Gabriele Salucci mi chiede ancora, quale klepton preferisci? Perché io ho detto qualche tempo fa di preferire il klepton Gibson degli anni 60 e lo confermo, nel senso che sinceramente a livello proprio stilistico il klepton Stratocaster mi lascia piuttosto indifferente, era un ottimo cantante, ha scritto delle belle canzoni, ma dal punto di vista chitarristico il klepton che ha influenzato me e tutta la generazione di chi è arrivato insomma dopo di lui è quello degli anni 60, quindi la fase Gibson, e mi chiede, preferisci quello con gli Yardbirds, quello con John Mayer o quello con i Cream? Preferisco quello con John Mayer perché con gli Yardbirds comunque il suo contributo c'era ma così era ancora un po' embrionale, no? Le parti c'erano ma non era ancora il klepton vero e proprio. Con i Cream è fighissimo, però c'è già diciamo si sente quasi un po' il rock che subentra, no? Il rock, l'hard rock, anche dei cliché se vogliamo in questo senso, no? Io penso che il klepton abbia dato il massimo nel suo disco con John Mayer, lì è veramente qualcosa di epocale perché così nessun bianco aveva suonato in quel modo finora, ma oserei dire forse neanche nessun nero, quindi insomma quel disco è veramente qualcosa di epocale. Dopodiché Gian Mario Iamoni chiede, mi piacerebbe un tutorial riguardo alla solo di Con il nastro rosa di Battisti, me l'avete già chiesto, prima o poi me lo occuperò, e poi un'opinione riguardo a due chitarristi, Phil Palmer, un grande professionista, e Alberto Radius, una leggenda della chitarra che ho anche intervistato, quindi andatevi a rivedere la mia intervista che ho fatto a lui assieme a Ricky Portera, è sul mio canale di YouTube. Last Night mi chiede, cosa ne pensi di Ace Freely, dello stile glam rock che usava con i Kiss? Potresti fare un tutorial su di loro. Allora i Kiss sono un'altra band che non abbiamo ancora trattato, prima o poi dovremo assolutamente trattare, Ace Freely è un chitarrista puro sangue rock, l'ho anche visto dal vivo perché io ho visto i Kiss dal vivo, non mi ricordo più che anno era, al Forum di Milano, alla Reunion con lui, e penso che siano una grandissima rock band, il loro glam è comunque un glam che arriva di rimbalzo dal glam inglese, lanciato da David Bowie che ho qui con me, sempre vicino al cuore, e dai T-Rex e da altre band, comunque voglio dire hanno i loro elementi di originalità. Cambiamo categoria, un paio di domande sui miei corsi, Marco H mi chiede, o Mark 0 H, non saprei, non mi scrivo al tuo blog perché devo dare i miei riferimenti bancari nonostante non sia interessato ad acquistare alcun prodotto per il momento, non mi pare una richiesta equa. Non è vero, questa cosa semplicemente non è vera, non abbiamo mai richiesto riferimenti bancari, la registrazione al nostro sito non li chiede semplicemente, quindi non so Marco dove tu abbia visto questa cosa, prova a riguardare il form di registrazione perché non c'è assolutamente questa cosa dei riferimenti bancari. Mirko Cancelli, quale sarà il prossimo corso che ho intenzione di lanciare? Tempo fa parlassi delle scale modali, sarebbe fantastico se tu decidessi di fare un corso su queste scale. Allora, l'abbiamo già detto, credo nel suono scorso e anche in quello precedente, il prossimo corso sarà dedicato all'improvvisazione, ma non inizierò a lavorarci prima di un mesetto perché in questo momento sto lavorando sui video per YouTube, per il sito, sui video diciamo gratuiti, no? E dato che richiedono anche questa una grandissima mole di lavoro, come capirete da tutto quello che vi ho detto fino a qui, inizierò fra un pochino a lavorare sul corso, quindi verosimilmente il corso sull'improvvisazione arriverà all'inizio del 2018. Consigli sugli strumenti, cambiamo categoria. Maurizio Leonardo Solfietti mi chiede, nel tutorial di Patience si vede un microfono davanti alla chitarra acustica, è un microfono compreso USB, chiaramente è più veloce, nell'era moderna si può collegare direttamente al computer, viene già alimentato da quello, è un pochino più rapido il processo, no? Però se vuoi fare una scelta più vicina alla professionalità io ti consiglierei di stare su un microfono classico. Nella fattispecie ti consiglierei quello che ho io, cioè lo Studio Projects C1, che è un microfono che costerà, credo, entro le 200 euro, ma ha delle prestazioni molto molto simili a quelle dell'U87 della Neumann, quindi è chiaro che quello è un microfono che costa più di 1000 euro, credo, corriggetemi se sbaglio, a seconda del modello che si sceglie, però voglio dire ci sono 800 euro di differenza, quindi è un microfono che vale la pena sperimentare. The Dark Souls, sempre in ambito di strumenti, mi chiede, che pickup consigli su una Gibson S-Paul Studio? Suono principalmente metal, ma non vorrei rinunciare al pulito. La risposta qua è facilissima, i suoi, quelli della Gibson S-Paul Studio, lasciate i pickup originali sulle chitarre, ragazzi, fate lo per me, sulle Stratocaster si lascia il pickup Stratocaster, sulle Gibson si lascia il pickup Gibson, tranne rare eccezioni, ok? La mia filosofia è questa, non condivido quando le chitarre vengono snaturate, cambiando il pickup, per esempio, solo una volta ho avuto una Stratocaster con un unbucker, per me la Stratocaster è single coil e così deve restare. Scusate l'integralismo. The Dark Soul, abbiamo già risposto, Giorgio Solfietti mi chiede, hai mai provato i pedali NUX? Sì, sono pedali economici, di produzione credo cinese, ne abbiamo anche messi un paio in palio per un giveaway, per un contest, li ho provati però prima di spedirli e devo dire che per il prezzo che hanno, credo che costino sulle 40 euro, fanno il loro lavoro, il compressore comprimeva, l'overdrive era un discreto overdrive in stile Tube Screamer con un suono piuttosto nasale, ma comunque funzionale. Stefano Fiore, visto che le domande interessanti sono poche, ti faccio questa sulla categoria strumentazione. Quali sono le componenti della strumentazione che incidono di più a livello sonoro, quindi ampli, pickup, pedali, legni, cassa? Ma allora, tutta la catena incide, dirò qualcosa di banale, già detto e stradetto, tutta la catena incide. Dal mio punto di vista ti posso dire quello che ascolto io. Io ascolto soprattutto le chitarre da spente, quindi se una chitarra non suona da spenta, per me non suonerà neanche da accesa, quindi non ho mai amato le chitarre, diciamo, come le Steinberger, si chiamano così, credo, che non hanno sostanzialmente cassa di risonanza, non hanno la paletta, per me la chitarra deve avere del legno che risuona, quindi questo è fondamentale. E quindi sono in forte contrapposizione rispetto a quelli che dicono che il suono della chitarra elettrica lo fanno solo i pickup e li potresti montare anche sullo swiffer. Cos'è lo swiffer? Sì, lo swiffer, quello per fare le pulizie, ok? Non funziona così per me, per me il legno è una componente fondamentale. Dopodiché i pickup sicuramente fanno, perché fanno, è inutile negarlo, e dopo tutta la catena, quindi la catena, soprattutto in termini di overdrive e distorsori che usiamo, quindi bisogna scegliere il corretto abbinamento tra tipo di chitarra e tipo di distorsore, perché ci sono alcuni distorsori, per esempio, che ho amato su certe chitarre e detestato su altri tipi di chitarre, quindi la catena deve essere valutata nel suo complesso e l'amplificatore poi dopo stesso discorso. Quindi è incredibile, ma bisogna fare un match, cioè far combaciare tutto dall'inizio alla fine. Quindi se anche noi abbiamo verificato che la chitarra suona bene con quel tipo di effetto, poi dopo potremo ottenere qualcosa di disastroso cambiando l'amplificatore alla fine. Quindi è inutile cercare di, diciamo, escludere un elemento dalla catena. Tutta la catena va considerata dall'inizio alla fine. Rossana Rassu, passando invece alla domanda generale e generiche, mi chiede i mini barret sono così necessari da imparare o un po' di difficoltà? Quando cerco di suonare corda per corda, la famosa pentatonica, tocco le corde vicine. Possibile che mi succeda sempre? Allora, sono due domande, scusate, l'ho enunciata come se fosse una, ma sono due domande. Per il mini barret ti direi che sì, è fondamentale impararli, anche perché li si usano in vari contesti, nelle parti soliste, nelle parti ritmiche, nelle parti di arpeggio. Cioè il mini barret è comunque una tecnica imprescindibile. Non sto dicendo che va imparato la prima settimana che prendiamo in mano la chitarra, però comunque prima o poi dovremmo costruirci questo tipo di tecnica. Per quanto riguarda la pentatonica, il fatto di toccare, sfiorare le altre corde con la parte interna della mano non solo non è un problema, ma va fatto perché ci aiuta a tenere sotto controllo le corde passive, quindi quelle che stanno al di sotto appunto della corda che stiamo suonando. Quindi dipende cosa intendi per tocco anche le alte. Se le tocchi nel senso che vai a diteggiare la corda sbagliata, allora lì dovrai esercitarti ancora un po' di più fino a trovare la precisione nel trovare la singola corda. Ma se stiamo parlando di sfiorare con la ciccia qui delle dita interna anche le altre corde, quello è assolutamente una cosa positiva e invece va sviluppata proprio come tecnica. Luca Scarso mi ha fatto una domanda che non ho capito se era una provocazione. Eri serio Luca o sei un troll? Mi volevi provocare con le tue domande o no? Quindi non saprei bene che cosa risponderti. Palesati, se sei un troll puoi accomodarti sul canale di qualcun altro, se invece era uno scherzo, bene, è stato divertente. Emanuele Biavati mi chiede, grazie al video intervista a Marco Sfogli, mi sorge una domanda, vi siete soffermati sulla scomodità dei manici molto sottili? Sarà per quello che mi viene veramente male con l'Ibanez, gli accordi alla Jimi Hendrix con il pollice? Ma può essere, comunque diciamo che lì io e Marco avevamo una posizione un pochino diversa. Lui ne faceva una questione di affaticamento della mano sui manici sottili, io ne faccio proprio una questione di consistenza, cioè sui manici troppo sottili mi sembra che mi manchi qualcosa sotto le mani, quindi preferisco manici un pochino più corposi. Sta di fatto quindi che ognuno deve imbracciare le chitarre e trovare quella su cui si trova più comodo, ok? Quindi ognuno vedi che ha delle prospettive e delle percezioni differenti prendendo in mano le varie chitarre. Quindi provale. Carlo Magistrelli mi chiede, anche il mio concerto è stato a 17 anni, non mi chiede niente in realtà Carlo, fa un'affermazione, è stato a 17 anni quello di Getro Tal, ma come mai non ti ho visto? Forse perché era il 71, io invece credo di averli visti nel 91-92. Carlo, che dire, sono invidioso perché sarebbe stato fantastico vedere Getro Tal nel 71-72, sono gli anni in cui sono usciti i miei due dischi preferiti, loro, Aqualong, Thick as a Brick, quindi darei una gamba, forse una gamba no, un rene darei, per vedere Getro Tal nel 1971. Fabio Guerra mi chiede, cosa ne pensi di Slash? No, scherzo. Mi fa una domanda che mi spiazza Fabio Guerra, cioè mi chiede qual è la canzone dei D-Lila, che sono la mia band, anzi la mia ex band, perché purtroppo non esistono più, a cui sei più affezionato? La mia è 22 di dicembre. Non mi aspettavo che ci fossero fans dei D-Lila in mezzo ai miei fans qua su YouTube. Comunque, per rispondere alla tua domanda, Fabio, 22 dicembre è anche per me una delle canzoni che io ho scritto a cui sono più affezionato, perché è una canzone d'amore, ed è una delle prime canzoni che ho scritto e credo che sia anche un grande pezzo pop, purtroppo non abbiamo avuto il successo che ci aspettavamo, ma vedete che i fans sono ancora in giro. Un'altra canzone a cui sono molto affezionato è Sapore di Sangue, e penso che siano le due canzoni in cui ho raggiunto il mio vertice compositivo, assieme alla canzone del chitarrista. Andrea Puricelli mi chiede, vorrei un aiuto su questa faccenda, suono da svariati anni, ma mi sto rovinando l'udito tenendo... Ah, adesso mi ricordo, in sostanza Andrea mi dice, tengo il volume molto alto e sento che l'udito mi si sta rovinando, se hai qualche consiglio, ma Andrea qui il consiglio non va chiesto a Claudio, qui tu se senti che l'udito ti si sta rovinando devi andare immediatamente dal tuo medico di base, che ti manderà immediatamente da uno specialista, ok? Quindi ragazzi per le cose legate alla chitarra chiedete a me, ma quando si tratta di qualcosa del genere assolutamente rivolgetevi a un medico, anche per i discorsi tendiniti e cose di questo tipo. È vero che le tendiniti non ci mettono a rischio di vita, ma non c'è da scherzare quando diciamo la musica va a intaccare la nostra salute, quindi in questo caso assolutamente Andrea rivolgeti a un medico prima possibile e abbassa quella benedetta cuffia. Il discorso vicini purtroppo è un problema, se si hanno i vicini di casa e non si può suonare con del volume, bisogna necessariamente studiare un'altra soluzione e trovare una location adatta allo studio, ok? Però abbassa quella benedetta cuffia altrimenti ti fai del male. Breni mi chiede, Claudio ma perché il mio dito continua a scrocchiarmi l'indice? Ma le mie dita continuano a scrocchiare, insomma è anche una questione, diciamo potrebbe essere artrosi, potrebbe essere attrite o potrebbe anche essere semplicemente una questione più estetica che altro, nel senso che tante volte le nostre articolazioni scricchiolano ma non hanno niente di patologico, ok? È solo un rumore che fa, è l'aria che scoppietta come quando scoppiamo il multibolle, non è un problema molto grosso, ok? Anche qui se però avverti che c'è qualcosa di patologico, qualcosa di doloroso, è chiaro che ti devi rivolgere ad un medico. Filippo Ferrari, ho appena visto il video con l'analisi armonica di Alex Britti, ah ecco Filippo poi mi chiede tutta una serie di domande, posso usare la pentatonica di la maggiore e di la minore, e se la base è blu, ecco Filippo purtroppo è impossibile rispondere a queste domande in due righe o in due parole, quindi i consigli che ti posso dare sono valuta i miei corsi, quelli legati per esempio al blues, nell'ambito specifico, il mio corso rock intermedio che ho appena pubblicato, oppure raccogli tutte le mie lezioni che ho fatto in fatto di improvvisazione, scala e cose del genere, guardatele, cerca di estrapolare le nozioni che ti interessano. Vi ricordo che sul sito c'è anche una pagina con tutte le mie lezioni catalogate per argomento, quindi da lì potete ricostruire facilmente le lezioni che vi interessano. E poi mi dice sei un'insegnante strepitoso e ti ringrazio Filippo sei molto gentile. Gianmarco Iamoni mi chiede complimenti per tutte le tue lezioni, ti scrivo sperando in una tua risposta. Allora non ho risposta perché non ci sono domande, però ti ringrazio molto Gianmarco e ti saluto, e grazie per seguirmi e continuo a seguirmi. Manuel mi chiede possiedi delle SG? No, anche se è una cosa che mi sta qua, perché la SG è una chitarra che mi piace molto. Il brano più arduo che tu abbia mai imparato? Il tuo album preferito? Allora tu qui ci sono un sacco di domande. Il brano più arduo che ho imparato? Ma allora, quando avevo 18 anni io ero un grande fan di Ingui Malmsteen, quindi mi ero fissato e ho studiato brani come Far Beyond the Sun o Black Star di Malmsteen, poi più di recente per tenermi un po' in allenamento stavo studiando Technical Difficulties di Paul Gilbert, sono brani molto difficili, non è molto il mio playing, nel senso che io sono più sul rock classico, sul blues, però brani di questo genere sono le cose più difficili come studiato, in ambito metal. Poi dopo ci sono tutta una serie di brani anche di chitarra classica, cose di questo tipo, sulla chitarra acustica che ho studiato, di cui alcuni anche piuttosto impegnativi. Il mio album preferito, così, one spot, one shot, in questo momento ti dico, visto che abbiamo parlato di Gertrottal, ti direi Sticker's a Brick di Gertrottal, ma arriverà un mio video sui miei dischi preferiti. Massimo Marangon mi chiede, regali troppo sapere, chi te li compra più i corsi? Eh no Massimo, ti devo smentire, perché nonostante io regali, tra virgolette, tutte queste lezioni gratuite su YouTube, sul sito, la vendita dei miei corsi va in una maniera strepitosa. Cercherò di esserti riconoscente, anch'io ti sono riconoscente, grazie a buon lavoro, anche a te Massimo, grazie mille. Cere Official mi chiede, mi dice, cercherò di fare una cover metal della canzone del chitarrista, siamo qui che aspettiamo, con trepidazione. Gabriele Lobartolo, Claudio, perché non fai un'intervista doppia con Massimo Varini? Allora, come credo di aver già detto, ci siamo sentiti di recente con Massimo, e probabilmente realizzeremo qualche cosa insieme, non so bene ancora che cosa, magari, non so, faremo anche magari un live, lui mi aveva detto, perché non facciamo un live in contemporanea sui due canali? Assolutamente sì, appena avremo il tempo faremo questa cosa. Giacomo Callori mi chiede, qual è la tua canzone preferita di Dylan, Bob Dylan? Allora, ce ne sono diverse, ti direi o Just Like a Woman, o Mr. Tambourine Man, sono due canzoni che adoro alla follia. Matteo Malone Russo mi chiede, mi dice, no, per scratch intendo dire, graffiare orizzontalmente le corde, si sta riferendo a una domanda della puntata scorsa di Veresuono, grazie, salutami anche questa volta, ciao Matteo, a presto. Fabio Fresegna mi chiede, consigli su riviste di chitarre, ma nell'era di internet, io non sto più, lo ammetto, non sto più seguendo, non sto più comprando riviste cartacee, ma ecco, quella a cui ero affezionato di più e che leggevano negli anni 90 era chitarra o anche guitar club, quindi con trepidazione si comprava il numero successivo sperando ci fosse qualche tab, qualche spartito interessante da imparare. Planet Room, ti considero un bravo chitarrista, un bravo insegnante, sono contro coloro che fanno il tutto con il solo obiettivo di trarne beneficio economico, mi dà questa impressione, deve di chitarra facile, mi sembra un tipo tutto fumo in interrosto, che ne pensi a proposito? Allora, primo non è la prima volta che mi chiedete un parere su David, lo ridò questo parere, nonostante così non sia molto così carino continuare a chiedere pareri sui colleghi, dal mio punto di vista, quindi penso che David sia un bravo professionista, non ho seguito molte delle sue lezioni di chitarra, mentre ho ben presente quello che fa a livello di marketing, penso che stia lavorando molto molto bene, soprattutto con la sua community, quindi siamo anche in contatto, ci siamo parlati, siamo in buoni rapporti, assolutamente, quindi non sono d'accordo con questa cosa che stai dicendo, in più c'è un'altra parte della tua domanda, a cui voglio rispondere separatamente, fanno tutto con il solo obiettivo di trarne un beneficio economico, è il suo lavoro, così come questo è il mio lavoro, io vorrei che questa cosa fosse chiara ragazzi, nel senso che io come vedete trasmetto passione, e voi la percepite questa passione, ma questo per me è un lavoro, quindi se io non vendessi i corsi online, non esisterebbe il canale di Claudio, non potrei fare quello che sto facendo, quindi vorrei che fosse chiara questa cosa, non lo faccio per vocazione, non lo faccio per passione, io sono un insegnante, lo faccio di lavoro, e se non vendo corsi, io non ho uno stipendio, così come chi fa il panettiere, così come chi fa l'impiegato, quindi smettiamo per favore con questa cosa, per cui su internet non si può promuoversi, perché altrimenti si viene tacciati di, stai solo pensando al beneficio economico, è un lavoro ed deve essere così, scusate se mi sono scaldato un attimo, però ci tengo particolarmente a questo punto, è la cosa che vale per David, vale per me. Emanuele Biabati, ultima domanda, mi chiede, più di 60.000 iscritti, complimenti Claudio, ti ricordi quando festeggiavi i mille con l'open, e mi ricordo sì, mi ricordo sì assolutamente, e mi sembravano tantissimi iscritti, adesso, boh dopo un po' i numeri, perdo anche un po' di significato, cioè 65.000 iscritti che abbiamo adesso, boh, non riesco a immaginarmi queste 65.000 persone, la cosa certa è che vengo fermato, nei ristoranti, in palestra, per strada, in continuazione anche in Svizzera, la settimana scorsa più volte, quindi, mi rendo conto di star diventando sempre più popolare, la cosa da un lato mi imbarazza, quando le persone mi fermano per strada, perché mi fa piacere essere riconosciuto, ma così non è che io mi senta molto questa grande rock star, e dall'alto però sono molto molto soddisfatto di quello che sta succedendo, ed è tutto grazie a voi, quindi detto tutto questo vi chiedo come sempre, di lasciarmi le vostre domande più, sempre più interessanti, e sempre più diciamo, sorprendetemi, fatemi delle domande sorprendenti, scrivetele qui sotto, e ci vediamo nella prossima puntata di Ve le Suono, ciao, buona chitarra a tutti, e a presto! Grazie a tutti!